porto un sacco un bagno tiene madonna mamma ti ha detto sei fin che sta sempre dentro casa e tu è fatta questa musica ma che siete sentite nella macchina mia mi mettete questa roba su bacia che non mi fai la cappetta co non mi fai la cappetta co non mi fai la cappetta co un po io ti ha detto ma non ti stai facendo le cazzo delle persone eh ci saranno stupidi dopo una figlia ma che ti sento si ma se non mi diciate voi Alessandra che ti fai un video no eh no 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 oggi no eh tu non cominciate con gli schienzi eh eh Dinizio che ha fatto che metti il navigatore eh speriamo che questo non va come schiettino sul navigatore perché sennò eh no no eh Dessandra ti ho detto non fa il video eh non fa le cose eh su che poi eh poi io rimango le portette le maschianette se tu fai ma passamela un po' che stai facendo la mia così eh che fai ma ma che perché non mi fai volutato alla fuori ma che te è bello sotta eh poverè che mi invece mi si lasci un bell'umaro o mei su te mi stai bello sotta dovevo passato di niente? Ditto va che ti chiedemelo eh fanca la maschianetta poi allora allora no Dignone non sa più che fa perché sai entra casa piglio la macchina e non sono i tu, 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 non è niente una macchina di questi sceliffi e allora a vedo che gira mi vedrete una madonna dico ma che faccio allora ci vede là si così mi facete gli sbagliati allora gli dico a te scampo via accelero così li sommendo invece mi secco e mi fa il letto di fermare mi fermo la macchina e dico ecco addosso il semo addosso il semo a scrivere un verbale figo che mi fa gli cantane da solo allora qui si cala e questo mi fa portando il libretto fortunato bruzzetti perché non portava la cintura ma sai a me sono congrassato le case messe da neanche da sole ma che giochi con noi ma città voglia degli cacobugliati dico ma che sto sentendo allora questo continua si mette la mascherina poi perché prima non la portava a stacco da solo senza la macchina che faccio a sfiato a ruolante e poi insomma lei e ti fermo dove sta andando fuori comune mi dico stacco timore niente prima abitavo qua invece ancora ti sta insomma 70 ote federico degli il mondo ancora gamba ma che sta dicendo fuori comune fuori mascherina non capiamo una parola di quello che si dice ma come sapete non capite una parola io parlo in precisi ma alla fine tutto il tutto costo mi ha detto basta 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 se vedi che gli ero spiegato bene allora mi ha detto basta vada dove vuole e noi ce ne andiamo ma chi cazzo vedete ne ho capito ma se vabbè e se si chiti via io si chito su e dove vuoi girare ecco si dita denise eh ecco 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 ma tu non mi siete buttato ma tu mi siete buttato quella che c'è fermate in bocca ma voi non mi volete far pigliare due balle basta sto telefonino sto scappando un maresciano fermate arrivedete che se possa cascare tutti gli denti avete fatto un po' buongiorno maresciano